La notizia è quella battuta da Undo ATG lo scorso 6 gennaio, ovvero l'impossibilità di effettuare raggio all'ospedale di Sulmona in piena pandemia dopo la rottura di due macchinari. Un problema che non è ancora rientrato, continua a creare disagia l'utenza, tant'è che il Tribunale della Sanità ha scritto alla ASL per chiedere una rapida risoluzione del disservizio. Tali apparecchi infatti sono indispensabili per effettuare le radiografie per i cittadini che prenotano questo tipo di esame, per la diagnostica per i pazienti ricoverati nei reparti, per la gestione dell'emergenza urgenza nell'ambito del pronto soccorso, rileva Katia Puglielli dal suo Tribunale della Sanità, spiegando che nonostante venga riferito che la ASL sia stata posta a conoscenza di tale problema, nessuna disposizione sarà adottata per stabilire come garantire servizio. In un periodo emergenziale come questo, caratterizzato dalla necessità di una tempestiva diagnostica, ho sollecitato la ASL ad adottare tutte le misure necessarie tempestivamente, conclude Puglielli.